...convenendo la condizione di lavoro vessatoria di caratteristiche di esibiti discriminati. Non essere complice di rivoluzione ai diritti umani. Sono acquistati, i progetti sono attenti. ... ... ... ... ... Ho! 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 Grazie a tutti. 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 Ricordate Sodastream. Sodastream è un'azienda israeliana che ha gli impianti di produzione nei territori palestinesi occupati. Produce, sfruttando la terra dei palestinesi, sfruttando i lavoratori palestinesi che vengono discriminati sia per quello che riguarda gli orari di lavoro, sia per quello che riguarda lo stipendio, sia per quello che riguarda gli eriti essenziali dei lavoratori. Non essere complice delle violazioni dei diritti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.